Signore e signori buonasera, benvenuti alla Casa Italiana Zerilli Marimò della New York University. I'm Stefano Albertini, I'm the director of Casa Italiana, it's a great pleasure for me to welcome back you all here tonight and welcome back Walter Veltroni for the US premiere of his film I Bambini Sanno, Children Know. It's a welcome back because we had the pleasure and the honor of having him here for the presentation of his previous film about Enrico Berlinguer and we asked him to come back whenever he had something else and he kept the promise. And we are very happy that he's here. As you may know this is also the closing event in the series of events organized by the Consulate General of Italy and we have the pleasure of having the Consul General Minister Natalia Quinta Valle here with us to now along with Deputy Consul Isabella Perriotto. So the celebrations for the Festa della Repubblica or Italian National Day began on May 31st and we have the pleasure of closing them tonight here at the Casa. The theme that the Consul General chose this year to celebrate the day of the Republic was cinema, probably the art that more than any other on one hand mirrored and on the other hand shaped the history of these 70 years. So it's a great pleasure that we put an end to the celebrations of the Festa della Repubblica with the film that talks about children. I'm not going to tell you more about this film. Even when I teach a film class, I normally don't speak about the film before the students see the film and I'm going to keep faith to that rule that I impose to myself. I just wanted to start with this quotation that I found from a friend of mine, Hijab Ascego, that some of you might know, is an Italian writer of African descent who lives in Rome and was also a visiting writer here at New York University. And yesterday, Hijab Ascego on her Facebook page wrote Io la Repubblica la festeggerei con una parata di bambini in festa. Avrebbe più senso. Sono loro il futuro. That in English is, I would celebrate the Republic with a parade of children parting. It would make more sense because they are the future. And I think, in some way, presenting Walter Veltroni's film, I Bambini Sanno, tonight, we are doing that. We are celebrating the Republic with an eye to the future. Buonasera. So it's my pleasure to start, first of all, inviting those of you who are standing behind to take the few seats that are available in the middle of the audience. So you can sit down and listen more comfortably. So we decided we're going to do this mostly in Italian, and I'll do some English translation. First of all, a few words to introduce my guests tonight. Antonio Monda is a professor of film and TV here at the Tisch School of the Arts at New York University. He's also a correspondent for the Italian daily La Repubblica. He writes about culture and a writer. His last book is, the title is Ottabenga, and he's out right now in bookstores in Italy, published by Mondadori. And our guest of honor tonight is Walter Veltroni, who had at least two lives. In the previous life, he was the mayor of Rome and minister of culture. The founder of the Italian Democratic Party and many other political responsibilities. He basically withdrew somehow from politics some three years ago. And after that, he undertook a different career, I think exploring his other great passion in life, that is, after politics, or together with politics, cinema. And we had the fortune, as I said, to present his previous and first film about Enrico Berlinguer here a couple of years ago. And last year. And my first question is a follow-up to a question I asked you during an interview for iItaly and asked you, what would be your next project? Now, you talked about Enrico Berlinguer. Is there something else you would like to bring to the attention of the world? And I don't know if you remember, your answer was that there was a very small party in Italy, that small in terms of number of supporters, but very important in the history of the country, that was the Partito d'Azione. And then when I saw that you made a film about children, I wondered what happened. How did you come to the decision of abandoning the idea of a political documentary, and you considered making a film about children? Well, sinceramente, diciamo, io non avevo intenzione, dopo il film su Berlinguer, di fare un altro documentario che si occupasse di storia o di politica. Volevo cambiare genere. Mi era stato proposto di fare un'altra biografia, però, insomma, io ho ritenuto che fosse giusto fare questa cosa al quale pensavo da molto tempo e che avevo in animo da molto tempo, perché... Ci dobbiamo fermare per la traduzione? Ancora un po'. Ok. Prego. Prego. Perché qualsiasi cosa abbia fatto nella vita, a me il modo di ragionare dei bambini è sempre molto piaciuto. Quando ero sindaco avevamo istituito il consiglio comunale dei bambini, proprio perché io volevo sapere da loro che cosa pensavano della città e avere da loro idee. Quando ho scritto romanzi c'è sempre, in qualche modo, o dei bambini protagonisti o comunque dei bambini. E quindi io volevo ascoltarli. Siccome nessuno li ascolta mai, ai bambini si parla solamente, si dice loro quello che devono fare, e invece io volevo ascoltarli, volevo sentire il loro pensiero. As a matter of fact, he never thought about actually making another documentary film about politics or a political figure, even if he was asked to realize another biography. And he wanted to do something completely different, and the world of children has always fascinated him. And as mayor of Rome, he established this city council of children, where he had a chance to listen to children. And he thinks that one thing we do is that we talk to children, but very rarely we listen to what they have to say. So that's where the decision stems from, Antonio. Volevo dire brevemente una cosa. Ho notato che il film ha un ringraziamento alla fine per il cinema di Luigi Comencini. Luigi Comencini è stato un grandissimo regista, forse un po' troppo dimenticato, ma è stato forse il più grande tra i grandi registi italiani nel raccontare i bambini. Ho notato che tra le scene iniziali c'è anche il ragazzo di Calabria, un bellissimo film, ma per citare solo un paio di film di Comencini, l'avventivo di Pinocchio, forse molti di voi lo ricorderanno in televisione, secondo me è un film straordinario, ma anche il suo adattamento di cuore, eccetera. E poi volevo dire un'altra cosa, che questi bambini sono straordinari, sono sempre sconcertanti. L'avete visto, c'è uno che recita Memoria Dante, un altro, anzi, sempre lo stesso che conosce bene la divina, pardon, Shakespeare. E c'è un altro che dice una cosa degna di un grande teologo, che nessuno è degno di andare al paradiso. L'opposto di quello che ha detto un vero teologo, Urs von Balthasar, quando ha detto che l'inferno c'è ma è vuoto. E' abbastanza straordinario sentire la saggezza. Poi sono contraddittori, c'è una ragazzina che dice, non sbaglio, quella gingeriana, che disprezza i gay, però è favorevole all'adozione da parte di una coppia gay. Faccio questa lunga permessa per fare una domanda a Walter Quettroni, se è possibile. Fammi introdurre qua. Sì, scusami, scusami. Sì, hai ragione. Antonio was mentioning the homage that Walter Quettroni decided to pay to Comencini, a great Italian director who had always dedicated a particular attention to the world of children. He made a fantastic adaptation for television of Pinocchio, of The Amici's Cuore, and many other films. And there is also one clip from one of his films, The Boy from Calabria, in the opening scenes. And then he was quoting the several scenes of the film. First of all, how extraordinary some of these kids are. There is the mathematical genius, there is the literary genius, and also how contradictory. The Nigerian girl that says that she feels disgust for gay people, but she has no objection to the fact that they might adopt children. There is also one kid who puts together evolutionists and creationists and says, yes, there is the Big Bang, but God created that, which is quite interesting. Ma la domanda la faccio in italiano. Io voglio fare a Walter Quettroni la domanda che ha fatto a molti bambini. Cosa sanno i bambini, secondo te, che gli adulti non sanno? The question is, now the question is the question that Walter asked to the kids. So what do kids know that adults don't know? La luce di questa esperienza. Ma guarda, sono state, diciamo, alcune spiegazioni, perché questo film desta in chi lo vede grandi curiosità sui bambini e sul modo in cui l'abbiamo fatto. Allora, intanto qualche spiegazione, che in qualche modo è anche la risposta alla tua domanda. Io ho visto in tutto 350 bambini e poi ho scelto questi 39. Li ho scelti pensando, come ho raccontato oggi al Financial Times, che ha scritto un bellissimo pezzo sul film, pensando alla composizione di una media classe italiana, classe di scuola italiana. In qualche caso li ho scelti per delle storie, per esempio la storia della bambina che aveva perso il papà, Benedetta, è una storia che io ho cercato. In qualche altro caso li ho scelti per gli occhi. Per esempio, quel bambino geniale, filippino, Kevin, quello che ha la faccia tonda, sembra il protagonista di Up, identico al protagonista di Up. Quando ha fatto il provino non ha detto una parola, però aveva questo sguardo. Dopodiché abbiamo fatto l'intervista e si è rivelato uno dei maggiori pensatori del nuovo millennio, perché la sua teoria sul Big Bang e Dio è assolutamente... L'ha detta anche Baba Francesco, ma dopo Kevin, quindi si è sicuramente ispirato a Kevin. So the main thing is that how did he come in contact with these kids and he auditioned about 350 kids and then at the end he picked these 39 and in some cases he was fascinated by the things that they had to say during the auditions and in some cases it was the face and the eyes as it is the case of Kevin, the kid from the Philippines with the round face and that during the audition didn't say a single word and then during the shooting of the film he revealed to be one of the major thinkers of the 21st century and with his theory about the Big Bang and evolution that Pope Francis also mentioned but after Kevin. Anche la sua teoria su Babbo Natale è imbattibile perché lui dice scusa tu sei Babbo Natale io sono un bambino ti scrivo una lettera chiedendo la maglietta della Roma non è che ho chiesto una Playstation non la porti ci deve essere qualcosa che non va poi l'ha avuta la maglietta della Roma ovviamente e anche la teoria di Santa Claus è abbastanza meravigliosa e è molto logico io sono un bambino ho chiesto per un t-shirt della Roma soccer team non ho chiesto per una Playstation e non lo porti a me devi non esistere quindi ho scelto questi 39 bambini in questo modo noi non ci conoscevamo a parte un bambino che conoscevo loro non sapevano le domande perché io non gli ho mandato le domande prima perché avevo paura che si preparassero con i genitori o a scuola il segreto è stato farlo nelle loro stanze quelle stanze che poi avete visto alla fine che in qualche modo raccontano anche diciamo la diversità sociale che c'è tra i bambini come c'è tra i grandi e non c'erano i genitori quando abbiamo fatto le interviste i bambini si sentivano assolutamente liberi ogni intervista è durata un'ora e mezzo la cosa che mi ha colpito è che loro non conoscevano me io non conoscevo loro ma dopo i primi 5 minuti di incertezza i bambini avevano come aspettavano di sapere come io giudicavo le loro risposte cioè si aspettavano che io gli dicessi se avevano ragione o se avevano sbagliato e io invece non glielo dicevo e questo gli ha consentito di andare liberi e selvaggi in un campo molto largo so the way in which he went about is that he interviewed each of them in his or her own bedroom that you can see in the final scenes and these are also bedrooms that reveal something about the social background of these kids the kids the kids were not given the questions before the interview because he didn't want them to prepare them or to be coached by their parents the parents were not present during the interview so they were just with him and the crew each interview lasted about an hour and a half and in the first few minutes the children some of them at least were nervous and were trying to understand how things were and then slowly they moved into full confidence very often almost asking for approval of Veltroni after they gave the answers but he would not give a judgment he would not give them a grade and that made them feel more free to express what they felt e quindi la risposta alla domanda di Antonio è questa cioè i bambini sono imprevedibili questa è la loro bellezza in fondo i grandi più o meno insomma siamo abbastanza scontati cioè chiunque abbia fatto delle interviste insomma più o meno ecco si sa tutte le prudenze gli equilibri io c'è stato un momento di queste interviste in cui sono rimasto senza parole ed è stato quando Lorenzo il bambino quello che manda i messaggi alla fidanzata che però non aveva il cellulare quindi non gli poteva rispondere quel bambino lì mi ha detto la domanda il futuro ti dà più paura o più speranza mi ha detto come avete sentito speranza che vuol dire speranza che io ho fatto fatica a trovare un sinonimo della parola speranza che fosse accettabile e comprensibile per un bambino di dieci anni però loro sono assolutamente inaspettati cioè non c'è nulla di scontato di prevedere naturalmente è ovvio che qui c'è il montaggio nel senso che se voi prendete in integrale ci sono anche molte risposte invece più ovvie più scontate o più banali quindi è chiaro che c'è una selezione ma questo c'è sempre quando si fanno le interviste però in loro c'è sempre un elemento di sorpresa e poi il fatto che pensano a tutto ecco io non so se avete notato il bambino finale Marius il bambino che ha otto anni è il più piccolo della brigata Marius fa delle pause che neanche De Niro fa ha delle sospensioni io glielo ho lasciate tutte perché in quelle pause lui pensava lui pensava le risposte e poi da otto anni in quel campo un bambino che dice io vorrei i superpoteri per dare una bottiglietta d'acqua e un panino ai bambini poveri come se parlasse di altro da sé e poi lui ha il coraggio di dire che là dentro persone buone non ne trova mentre è chiaro che gli avevano detto di non dire nulla sul padre che era stato portato via è l'unica cosa sulla quale io ovviamente non ho insistito però ciascuno di questi bambini io capivo che siccome non sapevano di che cosa avremmo parlato potevano immaginare che io gli chiedessi che giochi fai come va a scuola no? quelle cose stipiche si fanno ai bambini così oppure gli chiedessi delle cose assolutamente ford'opera invece io gli ho fatto le domande che secondo me in quell'età lì ci si fa tutti i bambini di tutto il mondo in tutta l'epoca storica un bambino del rinascimento si faceva le stesse domande che si fanno i bambini tra gli 8 e i 12 anni di oggi so the major factor that made this project interesting is the unpredictability of kids they always give you some surprise you don't expect it we adults are all pretty much predictable especially in an interview setting and they were so unpredictable that in some cases they left him speechless as the case of Lorenzo the kid with the white shirt and the straight black hair that when he asked him whether he had more fear or hope for the future asked what is hope and Walter was speechless and was not able to come up with a synonym that could be understandable for a kid and as he was struck also by the last kid the kid in the Roma campment who is the youngest one of the whole group and he's incredibly skilled use of pauses worthy of De Niro as Walter remarked so the the surprises that they leave for you are always coming and when you less expect them scusami any question to which they didn't want to answer no sinceramente no sinceramente no perché i bambini non hanno guarda io mi ricordo quando appunto nelle tante volte in cui sono andato in Africa la cosa che mi colpiva è che mi raccontavano come reclutavano i bambini per fare la guerra perché i bambini non hanno la coscienza della paura non hanno il senso del limite no allo stesso modo i bambini intervistati non sono come i grandi che dicono no di questo non parliamo ma parlano di tutto poi magari capisci se hanno più o meno voglia di parlarne però parlano di tutto e ne parlano anche a partire dalla loro esperienza avete visto quel bambino quello che ha le due fidanzate e un numero imprecisato di fratelli anche per lui secondo me assolutamente imprecisato e che tra l'altro quando abbiamo fatto l'anteprima a Roma del film con Mattarella con il presidente della Repubblica abbiamo fatto un ricevimento solo per i bambini a un certo punto io mi sono girato e ho visto Simone quel bambino lì che stava corteggiando la bambina bionda quella del indemoniato proprio non c'è niente da fare però ecco per esempio lui diciamo gli nasce da un'esperienza di vita come quella che evidentemente non è lì non è DNA è proprio esperienza di vita insomma ciascuno di loro racconta anche la sua storia però io quello che cercavo di fare anche è portarli lontano non lontano dal racconto che è sempre una cosa meravigliosa ma in qualche misura a costringerli probabilmente alcuni di questi bambini alcune di queste domande non si erano mai fatte però sono stati costretti a pensarci ai bambini si dice sempre quello che devono fare spesso ai bambini si parla manca solo che si parli diciamo con i verbi all'infinito a voce più alta nessuno si cura del fatto che i bambini hanno un loro pensiero in quell'età della vita perché prima è più difficile che ce l'abbiano dopo si sono già dati tutte le risposte ma in quell'età della vita io lo ricordo su me stesso io mi ricordo da bambino quando venivo mandato a letto dopo Carosello che non avevo sonno e le domande che mi facevano erano queste grandi interrogativi il futuro che sarà di mia madre che sarà del mondo e Dio c'è Dio avete sentito su Dio no qui Dio scusami tu sei un interprete fantastico ma io sono troppo lungo sono un riassuntore brillante so the question was Antonio la domanda precisa era sul sono domande che non hanno ok there are no questions to which the kids do not answer they answer all the questions and Walter learned that when he was in Africa during one of his many trips and he was interviewing children soldiers that had been recruited and they are recruited because they are fearless and you can realize that there are questions that cause them pain to answer but no questions that go unanswered and even Marius the Roma kid probably had been instructed not to talk about when they took away his father and that was the only time in which he was sort of reticent in his answer but everything else he did answer the great questions and they're not used to have these great questions asked to them we normally speak to kids as to inferior beings the only missing thing is speaking only with verbs at the infinite and raising our voice but they do ask themselves those questions every day and there is this sort of this grace period this age that is the age between 8 and 13 before it's very hard to get into this sort of conversation with them and after they know already everything but in that period of time it's really the period of time and he knows by personal experience when between 8 and 13 he was sent to bed after Carosello that was the commercial that came after the evening news in Italy and all the kids by 8.30 were in bed and he would stay up because he was not asleep and ask himself these questions about what would happen to his parents what is going to happen to the world who is God where is God so these are some of the issues that you can address with the kids and have answers that are much more profound than you would expect per esempio su Dio c'è Benedetta quella bambina bionda che dice io me lo immagino nomade quell'altra bambina che fa la distinzione tra Dio padre di Gesù e il Dio naturale siamo diciamo dentro la filosofia più 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 complessa insomma ciascuno oppure il bambino il matematico che è diciamo la razionalità assoluta che dice l'inferno e il paradiso non esistono se no li avrebbero scoperti cioè come se fossero dei luoghi diciamo raggiungibili ecco e lì arriviamo anche quasi al rischio dell'eugenetica a proposito del fatto che se nasce il primo figlio intelligente bene se no insomma sono veramente poi punto sono commoventi divertenti per esempio il rapporto di quella bambina con la morte del padre quella è una bambina poi se voi li vedeste perché al cinema sembrano tutti più grandi se voi li vedeste l'una per esempio la bambina l'una è alta così ma anche l'erotomane è alto così cioè non è che sì l'erotomane è alto così cioè sono proprio piccoli piccoli però per esempio l'una è il capo assoluto della famiglia e lì la sorella dice una cosa meravigliosa alla fine della parte parlando del problema che ha avuto l'una dice non puoi avere tutto dalla vita il che vuol dire che per lei non esiste il problema che tutti gli altri vedono per lei non esiste perché le dice non puoi avere tutto dalla vita ecco insomma è questo che a me ha enormemente colpito e emozionato sia quando ho fatto l'intervista sia dopo quando le ho montate vorrei dire quasi più dopo perché quando fai l'intervista sei molto concentrato su dopo appunto mettendo insieme questi frammenti è venuto fuori un mosaico di cui poi appunto del bambino che è caduto e io ho consigliato a tutti i genitori che hanno visto il film di non fare così con i figli se non vanno bene a scuola sono some of the questions especially the ones about God were as you could see quite extraordinary and very original and some of them even scary but nothing predictable It was not simply copied, but by what they hear from the adults. And one thing that seeing them on the large screen, they seem very big. They seem more adult than they are, but they're really, really little. They're still children. They're like this tall. Even the super playboy from Brescia is a small kid. That, by the way, I forgot to mention this interesting episode that during the reception that the president of the Italian Republic offered only for the kids after the premiere in Rome, he turned around. And when he saw him again, he was courting the blonde girl that appears in one of the first scenes. I would say now that we should have maybe some questions from the audience. Yes. The question is how did he find the first 350 kids, the first group from which he screened out. Noi siamo andati in scuole che sapevamo in tutta Italia essere particolarmente interessanti. Siamo andati da associazioni, abbiamo sparso la voce. quindi, alla fine, diciamo, è come una rete che tiri, no? A me dispiace. Tutti i bambini che ho intervistato sono nel film. Tutti. Perché non volevo che nessuno si sentisse. Solo uno, perché siamo andati fino ad Alicudi. Alicudi è l'isola più lontana delle Olie. Perché ad Alicudi c'è una scuola con un solo bambino. Ma non un bambino per classe, ma un bambino in tutta la scuola. E solo che aveva 15 anni, fumava, quindi insomma era un'altra... Evidentemente rotto dalla vita, esperienze più complicate. Insomma, è l'unico caso. Però per il resto, ecco, noi abbiamo veramente cercato di attivare tutta la rete di conoscenze che avevamo a disposizione. Ne approfitto per dire un'altra cosa. Nel film ci sono due citazioni. Una è di Comencini, che ha richiamato Antonio. Il bambino che non ha più la bicicletta, che ora ce l'ha la bicicletta. Quel bambino lì sembra la citazione di un episodio bellissimo di un'inchiesta che fece Comencini nel 70 si chiamava I bambini e noi, in cui raccontò il caso di un bambino della Magliana quando la Magliana era, diciamo, veramente periferia estrema della città. Un bambino che veniva preso a cinghiate dal padre, che non andava a scuola. Insomma, ecco. Alla fine Comencini capisce che tutto quello che questo bambino vorrebbe è una bicicletta. Allora gli regalo una bicicletta, contrattando il fatto che lui vada a scuola. Torna dopo qualche mese e il bambino non andava a scuola. Il bambino lo porta a casa e gli fa vedere la bicicletta tagliata a metà dal padre, che era tornato una notte ubriaco e con l'accetta aveva tagliato a metà questa bicicletta. Io poi, siccome sono malato, sono andato a cercare questo bambino, il destino di questo bambino di cui Comencini aveva parlato, e questo bambino era entrato nella banda della Magliana ed era poi morto di overdose in un palazzo della Magliana. Questo lo dico perché quegli anni della vita sono gli anni in cui noi diventiamo come siamo. Certo, c'è qualcosa prima e sicuramente c'è molto dopo, ma gli anni in cui si forma il nostro carattere, la nostra visione del mondo, la nostra relazione con gli altri, sono quegli anni lì, gli anni tra gli otto e tredici anni. Questa è la prima citazione. La seconda e poi finisco, se no ti un pazzisci. Va vai. There are two citations in this film. They were not completely voluntary. And the first one is in reference to the bicycle. When one of the kids mentions the bicycle that was left in another house and it might have been wrecked. And it sounds almost exactly like an episode from one of Comencini's films. Comencini, this Italian director that has already been referred to at the beginning. He talks with a kid that comes from Magliana, that is a neighborhood in Rome, at that time particularly with a bad reputation. And this kid would not go to school. His father beat him up. Very troubled situation. And Comencini asked him what he wanted, what he really wanted. And he said, I would like to have a bike. And so Comencini negotiated with him to give him a bike as a present. And in exchange for the bike, the kid promised he would go to school. Comencini gives him the bike, goes back a few months later, and the kid is not going to school. And Comencini asked him why. And the kid invites him to go to his house where he sees the bicycle cut into two pieces by the father one night that he went home particularly drunk. And Walter being stubborn and a bit sick when it comes to finding out the outcomes of these situations, he made the research about this kid that Comencini talks about and presents in his film. And he found out that this kid, when he grew up, joined the Magliana gang that is one of the worst criminal organizations ever in Italy and probably the worst ever in Rome and died of an overdose. This says a lot about how important these years are. These are the years in which we become what we are. Something goes on before, something can happen after, but this is really the moment in which the games are done. and the second citations, which has really shocked me, even for the casualty, the bambino matematico catanese, when I told him what was the most difficult moment in his life, he told him a scene that is the beginning of my favorite book, which is The Bambini in the Temps of Ian McEwan, that opens with the disappearance of a child in a supermarket. He disappeared in a supermarket. And when I asked him how long it was, he gave me a response that he said that he said that he said that I can't say it because it's a different time. He knew that he knew that the time is not an absolute entity, but it's an entity relative to the experience of life, the perception of the time. And the other extraordinary citation is from the mathematician kid from Catania, that when he's asked what was the most terrible moment in his life, remembers the moment in which he got lost in a supermarket, that is exactly the opening scene of one of the novels by Ian McEwan, where there's a girl lost in a supermarket. And when he asks him, but for how long were you lost, he comes up with yet another genial answer that says, I cannot really tell you because it was a different time, proving that this kid has already understood that time is not an absolute value, but is subjective, and it depends on the experience that you're having. Yes, the lady back there. Yes? It seems that most of these kids were either immigrant children in underrepresented backgrounds or broken homes. Was that a conscious choice of you to choose children from those kinds of backgrounds? In general, the question is, in case you couldn't hear, it seems that the majority of these kids come from broken homes, or they're immigrants, or they come from an impoverished background, and was this a conscious choice? No, devo dire, sinceramente, non ho questi... Cioè, mi pare che sia abbastanza rappresentativo di una classe socialmente ed etnicamente di una media classe di scuola elementare o di prima media italiana. Cioè, ci sono dei bambini che hanno condizioni sociali assolutamente vantaggiose, qualcuno anche sopra il vantaggioso, e ce ne sono altri che sono una condizione... Io ho cercato, ecco, di fare una rappresentazione non di maniera, ecco, di descriverli, di descrivere la complessità della condizione sociale del paese senza rimuovere né i picchi in alto né quelli in basso. No, but I think that's an impression. His aim in the final selection of the 39 kids was to somehow give the same social rationale that you have in an average class in a junior high school in Italy right now, in terms of native Italians, immigrants, different social classes. There are some kids that come from well-to-do families, some are even very rich, and then there are some very poor. He decided not to eliminate neither the top of the social letter nor the bottom, and to present the complexity of Italian society as it is today. So maybe we should say that really if you go to a school now in Italy, in some schools there are 35-45% of the kids are children of immigrants. Yes? I was just thinking about how definitive this work is in terms of really being able to check in with the future. Of Italy being? It really checks in with the future that talks to children and really listens to them. And that's what I really got from this. It really checked in just to know how they're thinking on a variety of topics, social, critical, philosophical, spiritual. and I hope that this will be a lot of follow-up to the future of this elective, but I'd like to also see this on-going effort because it's one way the country can really find out where it's safe since you're thinking of human, in other countries would be like to try. Let's get... It's a thing that provides an extraordinary check-in on Italian society as it is, on the situation as it is. And the hope that the lady expresses that it might not only possibly follow this group of kids when they grow up, and the other idea would be to extend this research in a horizontal way, because it's very important to determine which are the hopes and the fears of the kids for the future. Guardi, diverse persone mi hanno detto perché non li seguirai nei prossimi anni. Intanto, bisogna arrivarci nei prossimi anni, ma... C'è un progetto che è già in corso dal 1964. È un progetto realizzato dalla BBC, curato da un regista che si chiama Michael Heptid, che si chiama 7-Up. Ed è un progetto con il quale si segue ogni 7 anni dei bambini che avevano 7 anni nel 64. È un progetto meraviglioso. Devo dirle anche abbastanza devastante, perché tu vedi queste bambine a 7 anni che volevano fare le ballerine, le ritrovi a 54 in un pub in condizioni diverse, diciamo così. Cioè, c'è anche tutto il senso della durezza della vita. Però quello è un progetto che, appunto, secondo me... Ecco, se qualcuno avrà voglia di farlo più avanti, seguendo questi bambini, i loro desideri e i loro sogni, bisogna farlo per 30 anni. Cioè, la bellezza della vita è raccontata... In fondo, quel progetto che poi è diventato un film boyhood, no? che è stato... va un po' in questa direzione. Cioè, raccontiamo la vita non attraverso la finzione, ma attraverso la vita reale e il suo tempo. Cioè, c'è un progetto che BBC ha, c'è una TV programma called 7 Up, e it follows a group of kids from 1964, e it checks in every seven years with them. The results are sometimes devastating, because you see the cute little seven-year-old girl wanting to be a ballerina in a pub, somehow devastated by different conditions that she and everybody else expected. But it's incredibly interesting to see this idea of the follow-up. that is also, as you know, the central idea of the film Boyhood that came out last year. Yes? I'd like to know how many years he spent making this film, and when it was first premiered. And we'd also like to know where would he buy a copy? The question is how many years he spent making this film, when it premiered first, and where you can get a copy. Allora, diciamo, il progetto del film è nato subito dopo Berlinguer, quindi Berlinguer è uscito a marzo dell'anno scorso, e io ho cominciato a lavorare a questo film a marzo dell'anno scorso, quindi un anno di lavoro, anzi meno probabilmente, nel senso che il film io l'ho finito alla fine dell'anno del 2014, quindi alcuni mesi, il lavoro più lungo è stato il casting, ovviamente. poi la prima è stata... So the duration of the whole thing was less than a year. Immediately after he finished the film about Berlinguer, he started already working on this film. And, of course, the biggest job was the casting, the selection of the kids. And I just would like to remember that the film about Berlinguer was an incredible success at the box office. It grossed, I think, more than any other documentary ever produced in Italy. Dunque, questo qui è uscito il 23 aprile ed è nella classifica degli incassi dei documentari fin qui al quindicesimo posto dei documentari degli ultimi cinque anni, mentre Berlinguer è al sesto, al settimo. Però tenga conto che, diciamo, sopra ci sono film di Wim Wenders, film di autori, almeno due film di Wim Wenders. Il film premiered on April 23, quindi molto, 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 molto. Questo è il numero 15, del box office, dei documentari degli ultimi anni fa, dove Berlinguer, il film precedente, è il numero 6. Ma prima di lui, e con lui, ci sono documentari di persone come Wim Wenders e molti altri. Quindi, è molto felice di quello che ha. Spero che esca presto il DVD e poi vada nei circuiti, diciamo, di Netflix e gli altri, se Netflix arriverà in Italia, come sta arrivando. E comunque, il film è stato prodotto da Sky, e io devo veramente ringraziare Sky perché ha avuto il coraggio di tutti e due questi progetti. Quindi, andrà in onda su Sky in Italia a settembre, poi probabilmente Sky lo metterà, diciamo, nel suo on demand, e poi il resto della sua vita non sono in grado di prevederlo. It was produced by Sky that he thanks, because they trusted in him in both these two projects. It's going to be broadcasted by them in September. Hopefully, soon also be made into DVD, and it also starts circulating in the networks like Netflix that is hopefully coming also to Italy. Yes, the gentleman. Dato che questi ragazzi tutti erano abbastanza conscienti del peso della crisi economica, si è sentito lei forse un po' deluso che nessuno fra loro si interessava alla politica o agli affari politici. since all of these kids showed that they were aware of the straight weight of the economic crisis, where you as a politician have all disappointed that none of them showed any interest in politics or political affairs come parte del loro futuro. You're the best member of the audience. Thank you very much for asking the question and translating it. Great job. Thank you. B io non gliel'ho chiesto. Non gliel'ho chiesto perché non volevo del telegiornale, sì. Della percezione e c'è quel bambino fantastico, Francesco, che dice parlavo solo di stragi, pioggia eccetera che è la descrizione di i giornali più bella che abbiaasty Music in vita mia, però io non gli ho chiesto opinioni politiche un po' perché penso che sarebbe stato immiserire perché i bambini non hanno opinioni sulla politica in senso stretto cioè non è che gli puoi chiedere se sono di centrosenità sì un bambino mi ha fatto delle battute su Berlusconi non dirò quale ma non le ho messe perché non mi sembrava giusto mi piaceva di più che fossero le grandi questioni al centro del loro intervento ha ragione perfettamente lei a dire che mi ha colpito quanto la crisi loro la sentano a me da bambino non mi sarebbe mai venuto in mente di dire che i soldi dei dentini che cadevano li mettevo da parte per pagare il mutuo della casa però quello dà il senso di una pesantezza di quello che i bambini questi sono bambini che sono vissuti solo nella crisi solo nella crisi perché sono bambini che sono arrivati all'età della ragione dopo il 2008 quindi non conoscono altro che questo spese di cielo di piombo sono You're right to say that they really feel the economic crisis These are kids that have lived only during the crisis that did not see a moment of prosperity and I was very shocked when I heard that for example the girl saving the money that she gets on the tooth fairy to pay for the mortgage for house when she grows up he would have never thought about that when he was growing up he was not asking specific question about politics what goes closer to it probably is the question about the newscast and the brilliant answer of the kid that says they only talk about thunderstorm and massacres and lightnings and but he didn't want to rub too much in that direction one of the kids made several jokes about Berlusconi but he cut them off he thought it was not the place for this kind of political discourse and he preferred to concentrate Anzi scusate vi dico qual era il bambino è il bambino che ha battuto la testa quindi valutate se il giudizio su Berlusconi è prima o dopo he's going to tell you that the kid with the jokes about Berlusconi is the one that banged his head and after that he became a literary genius but he's not going to tell you whether the jokes on Berlusconi came before or after he banged his head yes ma'am yes grazie per aver dato l'ascolto ai bambini cioè in base al grido al fanciullo bisogna dare l'ascolto anche la possibilità di partecipare e poi l'ha fatto come sempre con il Roma ha detto che hai fatto il consiglio comunale con i... cosa erano? e la gioventù, bambini? non erano bambini di questa età erano bambini delle elementari sostanzialmente che venivano eletti tra di loro per esempio io feci una delibera io a un certo punto riunì la giunta comunale con il consiglio comunale dei bambini e facemmo una delibera che consentiva ai bambini di giocare nel cortile dei palazzi di Roma che era stata una loro richiesta e cosa che diciamo di solito i condomini non vogliono perché gli danno fastidio i bambini le macchine che tirano il gas vanno bene i bambini che giocano no per dirne una ecco ma insomma quindi avevamo attivato un percorso di partecipazione interessante the question of the lady is that thank you for listening to the kids and she was asking about this experience that Viltrone did as a mayor of Rome of the city council of the kids and how it worked and what was the age of the kids involved and the answer is they were mostly elementary school age kids they would elect their representatives in the schools and they would come to city hall and several times sit down with the commissioners of the mayor and in one case they helped write these city law that established that kids can play in the courtyards of condominiums of buildings in Rome where they could not play before you could park car and make all sorts of noises and pollution but kids were not allowed to play and so that's just one little example of a proposal that came from the kids that was passed by the administration e qui c'è uno dei miei assessori quando ero sindaco che oggi è un parlamentare l'orevole Morassut che è qui e quindi può testimoniare di quelle riunioni Andrea Mattiello bene, è tutto grazie per averci portato dentro l'energia che è l'antimo di quegli sguardi che è veramente un viaggio molto vero e la domanda è legata a questa introduzione cioè quando loro si sono rivisti come le sta apprezzata la reazione dell'intervista dunque what was the reaction of the kids interviewed when they saw themselves on the big screen dunque né i bambini né i genitori avevano visto il film lo abbiamo visto tutti insieme all'anteprima quindi ero un po' preoccupato sono stati tutti entusiasti sia i bambini sia i genitori i genitori che si sono fidati io veramente devo ringraziarli perché loro non sapevano che cosa i bambini dicevano io ho consegnato loro l'integrale di tutte le interviste anche per ricordo ma si sono fidati e sapendo che io non avrei fatto immagino anche per la mia storia non avrei fatto cose ti faccio un esempio c'è una bambina o un bambino non dico in questo caso che io sapevo aveva i genitori separati ho fatto la domanda e mi ha risposto che i suoi genitori stavano insieme e ha cominciato a raccontarmi tutte scene immaginate di loro che vedevano insieme la televisione loro che andavano insieme al cinema tutte cose delle quali evidentemente questa bambina o questo bambino aveva bisogno diciamo poeticamente era una bella cosa ma io non l'ho messa perché il giorno in cui il film fosse stato proiettato nella città in cui viveva questo bambino o questa bambina sapendo tutti i suoi compagni di classe che i genitori erano separati lei o lui avrebbe fatto una brutta figura per cui per me vengono prima i bambini e poi il film ecco insieme the reaction of the kids they were all enthusiastic and so were their parents and he was a bit nervous because it was they did not see it before he did not see it before and they all saw it together at the premiere in Rome con il Presidente della Repubblica with the Presidente della Repubblica con due Presidente della Repubblica due anche la politana we have two Popes we have two Presidents of the Republic due di tutte due di tutte so they saw it all together and they were all enthusiastic he was a bit afraid of the reaction that some parents might have they received an integral copy of the interview before the editing but still there were some concerns and they all appreciated the way in which the film came out and he says that he was very grateful to the trust that the parents placed in him because they were not present at the interview and probably it's because of how they felt about Veltroni as a respectable person that would not use their kids and he gave the example of one of the kids interviewed he knows that the parents are divorced and when asked whether the parents were divorced or separated the kids said no and she or he he didn't reveal the gender went on creating an imaginary life altogether and he decided not to put that part in the final cut of the film because he wanted to protect this kid when the film would be seen in his or her own hometown it was beautiful poetic the fact that she recreated this life altogether that didn't exist but it probably would have made her sort of an outcast and everybody would have known that she was lying in her city and the idea is that the kids for him came before the movie one last question Stefano la voce dell'America la voce di Giulio no lei è stato quasi come un'accusa no? è stata fatta quando era in politica di essere un buonista buonismo di Veltro si e con questo film con questo documentario possiamo dire che lei riscatta il buonismo e come dire da un valore a quello che forse l'accusavano per essere un difetto invece di dire no abbiamo bisogno di buonismo e now you have to give me a translation of buonismo in English because I do not have it my students are very creative when it comes to translating Italian words into English but buonismo they were not able to come up with anything as a politician only in Italy can happen this but only as a politician he was accused to be too good as a person as a politics like he was saying like oh Tony always talks about things that are not possible you know because good now my question was with this documentary maybe he now before for him was like an accusation maybe now it's a kind of revenge no say like yes we need Italy needs that kind that's what I always thought is a rather strange name I think this is all the time we have for tonight I think we had a great debate I thank all of you who participated so actively and so passionately we wish great luck to this film by Walter Veltroni we congratulate him on his second life and we expect to see his future films thank you thank you thank you for having seen the film for being at the debate thank you thank you